Io ti ho convocato, non so come cominciare. Aspetto che faccia sera, che si allunghino le ombre, nel giardino che entrano in casa le ombre degli alberi e delle statue a nascondermi il viso, le mani, a nascondermi le parole che ancora in formi indugiano, le parole che non conosco, che temo. Buonasera, come è nata l'idea di Fedra? Non è nata da me veramente, ma è stata una proposta di qualcun altro l'anno scorso. Mi ha subito appassionato perché effettivamente è un monologo struggente, un mito che non ho mai affrontato, non ho mai affrontato i grandi miti, ma con un linguaggio così contemporaneo, che uno si confronta immediatamente, mi è venuta voglia di farlo. Poi chi è che non ha vissuto una passione, a volte è impossibile come questa. Tento di camminare, i lenzuoli mi si trascinano dietro come dopo l'amore. Tento di posare un bicchiere, un piatto sul tavolo, dalle mie dita appende quella catenina familiare con la tua crocetta, quella che dicono ti abbia regalato la dea, quella che ti pendeva sul petto, che sprigiona un alito leggero dal tepore della tua carne. Sì, te l'ho rubata io. Ricordo la tua infantile sorpresa quando la perdesti, il tuo senso di colpa, la tua ira. Come ti scintillavano gli occhi, come il sangue ti avvampava le guance, lo vedevo il sangue, io lo, io lo vedevo, sì. Quindi il conflitto interiore di Fedra, quanto ci appartiene? Credo che appartenga a tutti, uomini, donne, giovani, anziani, credo che si appartenga a tutti, chi l'ha vissuto, chi lo deve ancora vivere. Certo questo è un amore impossibile per il figliastro, però l'impossibilità dell'amore l'abbiamo vissuto tutti. La ringrazio. Grazie. Senta, portare questi spettacoli in periferia, che valore ha secondo lei? Periferia? Non mi sembra così un buon modo di dire... Non c'è positivo. Nel senso che sì, io lo trovo tutto positivo, intanto mi piace venire direi in provincia, in luoghi dove c'è quell'attenzione, per amore di Dio c'è anche nelle grandi città, però è un classico dell'estate, riuscire a arrivare magari in luoghi dove magari non riesci a arrivare durante la stagione normale del teatro. Io trovo, trovo, trovo bello. A me piace moltissimo, ecco, essere in questi spazi. Io a volte ho pensato di indossare gli abiti di un tuo schiavo, di un tuo scudiero per venire a caccia con te, per conoscerti nel tuo ambiente. Come corri, come prendi la mira, come uccidi per seguire le tue belle movenze indipendenti protese a uno scopo concreto, a un'intenzione definita con quella precisione e facilità che derivano dall'esercizio e dall'esperienza. Sì, io avrei molto desiderato conoscerti in questa dedizione totale a un'impresa che sconfina dalla disciplina nell'estasi, nell'estasi. Io immagino che tu sia come un ballerino quando salta, no? E rimane in aria a un istante, ritardando la caduta, abolendo la legge di gravità. Sì, come un ballerino quando solleva in alto, in alto, in alto una ballerina aerea. Allora ci si mozza il fiato nel timore che di ali alla ballerina e lei spicchi il volo accanto a una nuvola bianchissima per non far più ritorno o la sprofondi in un abisso invisibile che naturalmente naturalmente esiste sempre davanti ai nostri piedi l'abisso. E forse perciò gli innamorati di sera camminano così lentamente con tanta precauzione tenendosi per la vita accanto al mare o sotto gli alberi o... Ma io non te lo nascondo. Non te lo nascondo. Molte volte ho sognato di acquattarmi dietro un cespuglio nel bosco, di smuovir i rami come un animale selvatico per farti da bersaglio essere... essere la tua preda rara. E quando poi mi avessi presa in braccio per portarmi sulla carrozza avrei avuto sugli occhi e mi dico due foglie verdi perché tu potessi chinarti più vicino più vicino al mio viso. Presidente Fiorelli quindicesima edizione con quale bilancio? Ma diciamo siamo a metà dell'opera la prima serata è andata molto bene ci siamo confrontati su temi importanti relativi alla storia del teatro di Fossombrone e non solo con esperti di fama nazionale a livello di comunicazione. poi abbiamo con Davide Riondino affrontato la tematica di uno spettacolo particolare in una modesta proposta. Questa sera siamo alla serata centrale con Isabella Ferrari in fedra di Giannis Rizzos musica eseguita al vivo da Giorgia Privitera al violino. Una serata molto importante il festival entra nel vivo e quindi siamo particolarmente lieti di ospitare tutte le persone che già vedo sedute in sala. Qual è il trucco se trucco c'è di questo festival di nomi sempre molto importante? Diciamo che c'è una scelta che è quella della qualità rispetto alla quantità delle serate e questa scelta ci ha sempre premiato crediamo che sia la scelta giusta da proporre agli appassionati di teatro e credo che la formula sia particolarmente apprezzata. Prossimo appuntamento? Allora il sabato 30 luglio alle 21.30 Luca Zingaretti in La Sirena dal racconto L'Ighia di Giuseppe Tommasi di Lampedusa drammaturgia di Luca Zingaretti musiche composte da Germano Mazzocchetti e produzione Zocco Tocco SRL una grande serata di teatro che completa la quindicesima edizione. Che bella notte incorruttibile incorruttibile che bella notte è bella notte incorruttibile a me a me applausi Grazie.